capputtana si è strana questa roba comunque benvenuti a questo video oggi siamo qui in un nuovo video vlog ragazzi oggi siamo nel non siamo nel mio canale perchè vi devo spiegare un paio di cose ragazzi e so cambiato l'ultima volta perchè l'ultimo video è stato registrato il 21 giugno 2016 di slither.io oggi ragazzi ora vi spiego oggi è lunedì 27 giugno stasera giocata Italia per sottolineare e ragazzi questo è il mio telefono di mia mamma mia mamma non voleva perchè mi ha fatto usare questo perchè il mio è tipo rotto vedete questo è il mio telefono è il mio telefono che qua è spaccato pure vedete io se premo qua il pulsante per accendersi non dà segni non si accende proprio quindi vi ricordate che vi ho detto quel fatto della batteria che non che non si caricava bene è tutto in naturale ci sono rotti questi dentini vedete se vedete pure un po' sono pure rovinati sono rovinati dentro allora il commissario è il commissario quello che è giusto il telefono che può aggiustare il mio arriva però si è arriva come arrivare oggi o domani fra una settimana mi ha detto che se riesce a ripararmelo ma lo ripare forse possiamo fare altri video su questo canale sul mio se no mi dice questo non si può riparare lo terrò sempre perchè questo qua è un ricordo più grande mi ha fatto scoprire youtube ragazzi non lo voglio proprio davvero buttare questo telefono infatti voglio se funzioni se non va il mio telefono questo qua se non riesce a ripararlo bisogna riparare il vetro però mi ha detto questo qua che lavora nella 3 perchè io ho vicino a casa mia uno che lavora nella 3 che conviene comprare un telefono nuovo piuttosto nel giustare il vetro ma a me mi serve quindi l'ho detto a mia mamma io mi raccolgo i soldi quando ce la faccio lo aggiusto però uso il tuo lei mi ha detto ok però sarà un bel lavoro tenermi da parte tutti i soldi ragazzi questo telefono proprio non lo voglio buttare per niente mi sta la nuova cover pure cioè la vecchia cover questo è vecchio no beh eh raga quindi devo usare questo canale per ora e allora continuano i video della serie ora devo andare a rivedere tutti i video del canale perchè nel canale non ci non c'entrano sette giorni la settimana e quindi praticamente eh devo riprendere tutti i video comunque però devo riprendere pure i file di clash of clans clash royale non penso che li porterò affinché non si aggiusta quel telefono perchè magari clash royale lo porto perchè io sono in arena 3 quindi posso arrivare più o meno in arena 4 quanto ero io però mi sa che tipo i video di minecraft li posso portare sulla playstation pure cercherò cercherò di portare quello che che posso magari porterò altri video vlog magari quando vada a mare perchè ora ragazzi vada a mare mattina e pomeriggio e ragazzi siamo entrati proprio nell'estate che dico io due giornini due giorni belli pieni comunque poi questa questa foto questo telefono mi sembra che si vede pure meglio non so a me a me fa vedere meglio forse sono io che all'effetto della fotocamera non lo vedo da tipo sette giorni perchè su questo telefono io mi guardo le foto su instagram mi guardo i video su youtube queste cose qui e ragazzi sono disperato davvero il primo video che vi ho detto già annunciato che l'avrò otto che sarà scheggiato era comparsa a dicembre tipo poi l'ho notto del tutto che era a marzo quindi ora si è proprio rotto distrutto proprio allora io ho un casino di notizie da darvi che mi hanno scritto un paio di commenti ah ora mi devo riscaricare il mio programma per registrare anzi no per registrare incorporato nel telefono perchè questo qua è samsung per editare però me lo devo prendere quindi li occuperò pure memoria e mia mamma che non voleva che io sul mio telefono facevo i video perchè mi devo occupare un casino di memoria però qua ho più memoria e più scaricato tipo non è scaricato di un per cento la batteria porca questo qua carica in due minuti poi ragazzi ho comprato pure il caricabatterie portate per niente magari per questo però per quello no va bene ragazzi io cinque minuti porto io pensavo di più che tipo 16 minuti comunque qui ragazzi se il video avrebbe preso metate scritto e spolliciate ho scritto il post no aspetta ma ancora non è finito ma che cazzo dico ma che se sono rincoglionito pure qua e allora se il video praticamente sotto il video di slither.io mi scrive Giovanni Baratto e ora non c'è il commento davanti però mi piace pure raffreddare porca puttana sono messo malissimo mi scrive che è inutile che dice che è l'assurde che giochi offline però ragazzi allora io ci provo a giocare online però avete visto che cazzo di lag c'era c'è è troppo lag non riesco a giocare e poi non so se trasmette pure una qualità di video buona quindi poi mi ha scritto un altro commento e non mi ricordo raga aspettate mi ha scritto Ciro pure che fra poco ci vediamo eh Ciro ehm mi ha scritto no non mi ricordo ah mi ha scritto che praticamente lo sprint che che dicevo io non so però che esiste che esiste su pc non su mobile ma io lo uso lo sprint vabbò ragazzi finiamo questo video che vabbò comunque ragazzi se il video vi piaciuto mettete schede spolliciate cercherò di portare i video su questo canale come vi ho detto un paio di volte se il video vi piaciuto mettete schede spolliciate non ci vediamo in più se il video beh ragazzi ciao